Ci deve essere un cessato il fuoco immediato a Gaza, poche parole ma incisive, quelle della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris che ha ribadito gli appelli dell'amministrazione USA per un cessato il fuoco temporaneo a Gaza. Data l'immensa portata delle sofferenze a Gaza, deve esserci un cessato il fuoco immediato per almeno le prossime sei settimane, che è quello che attualmente sul tavolo ha detto Harris durante un comizio in South Carolina. Harris anche riflettuto sulla crisi umanitaria nell'enclave, compresa la carneficina di giovedì scorso contro un convoglio di aiuti. Il governo israeliano deve fare di più per aumentare significativamente il flusso di aiuti, ha detto, non ci sono scuse.